Terza Kermess musicale per amore della musica e della solidarietà, il comune di Arezzo, nella persona in questo caso dell'assessore Tiziana Nisini, vedo che indossa la maglia, quindi è della squadra. Sì, sono della squadra, ormai siamo un gruppo sinergico, sono sempre presente, diciamo per me è la seconda Kermess, è la terza Kermess, un appuntamento importante, importante per tutta la collettività perché è una giornata di solidarietà a favore del calcio, per cui invito tutti gli aretini a partecipare giovedì alle ore 20 a questa bellissima iniziativa. Le novità di questa terza Kermess, comincio diciamo dalla componente Severino Baldi che è quello che un po' attira le fila poi anche dei musicisti. Ci sono 100 musicisti che salgono sul palco live direttamente dal vivo, c'è la novità quest'anno perché ogni anno abbiamo un personaggio importante, quest'anno è la volta di Maldi Primitive che poi non è solamente conosciuto per Furia e Cavallo del Veste, ma ha fatto delle importanti canzoni e fra l'altro è un grande armonicista blues. Dal punto di vista più tecnico c'è questa bella novità dove insomma in un grande maxi schermo vedremo che cosa. Ecco per migliorare un po' la qualità abbiamo messo questo maxi schermo, è importante perché verrà proiettata la foto, abbiamo chiesto quelle d'epoca naturalmente, ma non tutti ce l'avano potuto dare perché qualcuno non c'era in quel periodo, però è una bella foto grande gigante mentre presentano il gruppo è piacevole. C'è talmente tanta adesione di gruppi e richieste da parte di gruppi che si stanno riunendo, anche se avevano smesso una ventina di anni fa, qualcuno anche 30, che non sappiamo più come trovare il tempo perché siamo già al limite massimo di una quantità di band esagerata, quindi probabilmente non è detto che l'anno prossimo non si possa fare per esempio due date tipo festival di Sanremo, senza premiati, senza premiati però ecco in modo da dare un po' più di possibilità ai gruppi di potersi esprimere perché effettivamente ora siamo proprio agli 8-9 minuti a gruppo quindi è un po' poco. Ma sicuramente Crono del Successo ha annunciato della musica e della solidarietà, non dimentichiamo che la cultura della solidarietà deve far crescere una comunità, la musica è quel collante che fa emozionare tutti, che non ha distinzioni di razze, religioni, idee eccetera, la musica è un grande comunicatore ed è un grande comunicatore di emozioni, quindi mettendo insieme solidarietà ed emozioni della musica, noi possiamo veramente far crescere questa cultura. L'incasso al Calcite per sostenere tutti gli impegni che questo comitato storico fa per la città, il primo fra tutti, il servizio scudo. Sì sicuramente il servizio scudo ma ci sono state ulteriori novità, sono due macchinari acquisiti recentemente come la farmacotepa Chemio, un costo 500 mila euro già in funzione e l'altra il mammografo per la prevenzione dei tumori alle mammelle, quindi anche questa delle bende a retine che praticamente ha riscorso notevole successo negli anni passati, sicuramente riscuoterà successo anche quest'anno con presenze importanti di pubblico, di bende a retine e di ospiti illustri.